L'appuntamento è per il 23 novembre, quando il golf di Varese farà da elegante cornici agli anni verdi evento Panathlon che da quasi un quarto di secolo premia il talento al quadrato dei giovani più in gamba. Premia dei ragazzi o delle ragazze che si sono particolarmente distinti in campo sportivo e in campo scolastico. Le due cose devono essere abbinate. Un premio che negli anni ha incoronato chi è saputo poi confermare le aspettative. Gente che è stata premiata da noi negli scorsi anni ha raggiunto anche vette di importanza mondiale vincendo campionati italiani, campionati europei e campionati mondiali. Quindi un premio che è particolarmente sentito. A fianco del Panathlon, Banca Generali vicina al territorio e i suoi giovani. Siamo contenti di dare il nostro compito come banca sul territorio. Siamo una banca che non si chiude in una torre d'avorio ma stiamo sul territorio e questo è una testimonianza di quello che noi facciamo.